ciao amici benvenuti da aderbijon guardiamo oggi insieme come sono riuscite queste creazioni che ho voluto fare ieri utilizzando oltre che i colori ad alcol classici anche i colori ad alcol metallizzati ho fatto un po e un po diciamo per vedere che che effetto ci dà come vedete non li ho riempiti fino in cima perché mi sono riservata ho pensato qualora venisse qualcosa male magari qui lo vado a ricoprire di alta resina con doming e quindi andava a mitigare diciamo l'effetto se non è bello del fondale stiamo a vedere comunque comunque questi meritano di essere insomma colmati perché così non vanno bene comunque questi invece che li dovevo chiudere come sono sono perché poi alla fine ci devo fare gli stampi di questi allora le ho le ho riempiti fino in cima questi qua stiamo a vedere detto ciò stiamo a vedere io a questo punto questi incuriosiscono tanto perché il connubio tra fucsia che poi questo è un pitch in pratica questo è un sono gli inca c'è l'inca c'è l'inca c'è l'inca gold sono i dei colori ad alcol della decorum livelli vediamo dopo dai allora facciamo questo prima questo è più semplice il più semplice 8 penso che è un po morbida la situazione ma però d'altronde sono passate 24 ore più eppure essi perché considerato il fatto che come si chiamano i colori ad alcol tendono a poi sono sincera anche questa è una resina datata che ci avevo da un po dovevo utilizzare per terminarla e quindi impossibile anche che va bene vi lascerò a finire di catalizzare sul piano comunque analizzando è carino dai qui ci ho messo c'è del del marrone e del pigmento così alcol scusate perché io poi mi imbimbolo mi imbambolo vabbè comunque dai carino carino e quindi non mi escono le parole perché comunque vedo le sfaccettature dei colori che mi affascinano tanto a prescindere da quali essi siano guardiamo qui questo è lo stesso si dicevo della decorum alcolici marrone e poi questo sempre all'alcol color oro per fare un bel video dove utilizzo questi colori qua ne prendo un po come che sono 24 una confezione 24 nell'altra mi sembra che però fatti vedere gli acquisti che feci da amazon allora guardiamo qui bello dai effetto antichizzato da un effettuccio così bello tanto ripeto devo farci gli stampi comunque sono eleganti sondellina allora vedete qui c'è sì perché poi non li ho messi subito le gocce del colore alcol non ho messo subito l'ho fatto dopo un po che era già bella che un po torbidina e quindi di modo da non arrivare al fondo e così mi ha dato questo risultato un po sospeso in alcune in alcune vedete sempre nel lucchetto fino fino alla cima insomma la carine stavo ammirando carine carina allora per questo stampo ok andiamo avanti con questo e poi questo dove sono più curiosa ce lo lasciamo dulcis in fondo siamo qua allora vado con questo abbiamo cos'ho combinato con questo combinato dunque abbiamo questa situazione che un tangerine forse era un arancio questo qui e poi c'è il famosissimo metallico ci ho messo anche il bianco sì sì poi ho messo anche il bianco ed è venuto poco evidente però c'è il bianco proprio classico matto sempre ad alcol guardate qui non è malvagissimo è serio diciamo serio perché si presenta con piccolissime percentuali di oro e diciamo che sono distribuite equamente ecco si può fare un paio d'orecchini non sono compatibili tra di loro ecco quindi volendo allora vado a colmare con del nero a sto punto anche della ovvi nera e quindi andiamo a chiudere il lavoretto qui mi sa invece che è venuto si sono mescolati cambiando voi i colori finali perché in teoria qua c'è ce ne due di colori il giallo cioè sono tre anzi giallo poi c'è questo qui tipo turchese che lo chiamano til e quasi sono mescolati insieme ha dato vita al verde vedete così proprio con il bianco e il bianco sia il bianco classico che il bianco un po come si chiama metallizzato è venuto fuori così vedete quindi essendo diversi paio di orecchini quando è neo negativo 0 ma mi sa che sto imparando anche a capire che quando si fa colare una goccettina di un colore poi bisogna subito metterci il bianco di sopra e poi mettere l'altro colore con un'altra goccia di bianco e che spesso accade che si mescolano tra di loro è stata nottiva il tempo ed ecco qua che si mischia tutto quanto e viene un altro colore insomma come spesso è accaduto con tipo con il lilla e con un'altra che veniva fuori sto color marroncino un po ambiguo che andava a rovinare il tutto quindi mi sa tanto che l'ideale è mettere il colore il bianco poi sotto l'altro colore e subito il bianco così lo tramortisci o ecco qua vedete questi ad esempio questi qui pure perché questo era il piccicchi che in tempo in tempo vedete perché poi va a trasformarsi in lilla se non ti sbrighi perché questo è un blu che mescolato con quello l'ha fatto lì l'ho fatto in tempo vedete perché qui ce l'ho messo il bianco anche non far mescolare il tutto per avvenuto un bella miscella news e quindi abbiamo anche suo fratello ecco come vedete quasi vince meglio il pitch che fucsia per me però la sta scritto che c'è vabbè ma pure e non c'è mai qualche vero dimenticata di metterci erano rimasti bianchi trasparenti non mai che ho fatto in tempo ed infatti vedete non c'è neanche un attimo 18 il colore perché rimasto come vedete era già quasi bella che torbida c'è torbida quasi un altro po catalizzato però nonostante tutto vediamo che incontro luce contro luce è una specie di ma però volendo ci può stare questo con questo risotto ci può stare vediamo un attimo se forse qui ci metto resi in argento così spezza un attimo con dai io sono curiosi di questi dai ci vado ci vado a scoprirli perché qua mi stuzzica proprio la curiosità 1 e 2 vedete come mollo e 3 beh carino a me che piacciono i colori fluo ti dirò mi piace mi piace qui c'è una parte che è rimasta trasparente ma la devo chiudere poi sigillo il tutto forse con il nero qua ci sta il nero beh non mi dispiace guardate che diciamo che faccio una macro di quelle potenti è bello perché sembra quasi una foglia oro non c'è male qui invece vedete col bianco il pitch è rimasto lui pitch originale vedete e ho capito anche che i colori ad alcol metallizzati non si mescolano e non fanno confondere il tutto rimangono fedeli e separati distinti e separati del bianco almeno si vede un po bello però è venuto proprio sbriciolato come pezzettini mi piace francamente bello orecchino bello elegante ci sta vediamo se vediamo se accanto a lui sì 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 vedo che mi sa che mi è andato in porto questa combinazione se 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 ci sta vai alla grande sono particolari mi stanno piacendo sempre più questi alcol metallizzati è bello 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 con con il piccio ci dà un ottimo risultato color piccolo li farò vedere tutti questi nomi di colori che sto nominando un bel giorno faccio un bel video mentre creo che è meglio così vediamo quest'altro questo è più serio però dai bello qui ci sta il marrone con il mio amico oro vedete e qua mi sa che il bianco non ce l'ho messo ecco perché è venuto ma poi ci sono due metallizzati però c'è un marrone metallizzato anche vedete queste puntine è bello vederlo anche ad occhio libero rende meglio comunque sono degli orecchini fattibili spero tanto che il suo gemellino mi vada bene accanto a lui bene possibilmente fattibile sì 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 sto vedendo anche guardate allora a questo punto io farei questo con questo visto che qui sono più pieni in questo con questo momento al contrario ma si largo sfogo la fantasia guardate un attimo che questo va bene con lui così non fa una bella grinza carino dai dai quindi fattibili anche questi orecchini eh sono belli visti con occhio libero ripeto sono molto molto meglio e poi infine ci ho questi che veramente mi ho fatti a caso proprio le ultime goccettine finali qua perché non ho mamma ah bello però peccato che non ho la stessa sembra quasi pitonato cioè sembra tipo non so come dire sembra veramente non so una marca famosa di pelle prima classe buono so quell'idea mi da però peccato che non è venuto lo stesso disegno anche qua che se no altrimenti peccato lì si sono sparsi guardate che sfiga tutti intorno al perimetro e qui nel mezzo peccato perché se no sarebbero stati ottimi per un altro paio di orecchini con il cerchio magari avrei fatto dopo dai pazienza io a questo punto mi ritengo abbastanza soddisfatta di questo piccolo scopriamo che vado a concludere per oggi cari amici tranne questi che magari vedrò di li vado a riempire di qua con degli strass e diciamo salvo la creazione così non archiviarli dai tutto sommato meglio che niente bene amici a questo punto per oggi concludo qui vi lascio ad un buon proseguimento di serata vi do un bacione e like commenti iscrivetevi lo sapete già vi lascio ad un buon proseguimento ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao